Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLE dove si segnalano code per una perdita di carico tra San Mignato ed Empoli in direzione Firenze. Spostandoci sull'autostrada A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sulla strada provinciale A1 a Retina per San Donato, senso unico alternato tra i chilometri 17200 e 17300 nel comune di Figline in Cisavaldarno. Per la viabilità cittadina a Firenze fino al 2 maggio, senso unico in via Perfetti Ricasoli nel tratto tra Viale 11 Agosto e via Famiglia Benini. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!